Voglio giustizia per mio figlio, era un bravo ragazzo, non si dà pace, Adelaide Porzio, la madre di Raffaele Perinelli, il ragazzo ucciso la scorsa notte a Miano con una coltellata al cuore. Lello non aveva alcun legame con la criminalità organizzata, era un bravo ragazzo, da sempre impegnato nel suo lavoro di calciatore, impegnato per diventare un campione. La mamma rivolge anche un appello ai testimoni del litigio avvenuto in discoteca tra Lello e quello che poi sarebbe diventato il suo assassino, a parlare e chiarire ogni aspetto di questa tragica vicenda. Intanto si è costituito nella notte il suo presunto assassino, agi queste le sue iniziali, si tratta di un venditore ambulante incensurato che abita a Miano, lo stesso quartiere della vittima. Assistito dal suo penalista Rocco Maria Spina, agi ha bussato alla porta dei carabinieri di Casori e ha confessato, ho rovinato la vita di quel ragazzo ma anche la mia. Perinelli è morto dopo poco essere arrivato all'ospedale Cardarelli, era il figlio di Giuseppe, uomo ritenuto vicino al clan lorusso, assassinato in un agguato nel 2003. Indagano i carabinieri che stanno cercando di capire quale sia stato il luogo dell'accoltellamento. Perinelli aveva solo due anni quando suo padre venne ucciso in un agguato. Da allora si era tenuto lontano dagli ambienti della malavita e aveva fatto una scelta di vita coraggiosa e diversa da quella del genitore, quella della carriera sportiva. Innamorato del pallone fin da bambino, era diventato un promettente giovane calciatore della Serie D della Campania. Giocava da terzino sinistro ed era cresciuto nella giovanile del Sant'Agnello. Due anni fa si era speso per la salvezza del Gragnano in Serie D e poi aveva indossato la maglia della Turris. Attualmente era svincolato in attesa di trovare una nuova squadra dove giocare.